Salve carissimi Ctutubi, sono Francesco, bentornati nella soffitta di camera mia e benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo di Star Wars, l'età della Repubblica, nemici. È il più vecchio del lotto dei volumi che dovevo leggere riguardante l'età di Star Wars, quindi parlerò di questo, poi vi parlerò anche di l'età della ribellione, eroi, età della ribellione, nemici. Vado un pochettino a memoria riguardante le storie di questo volume qui perché non mi hanno colpito particolarmente, per quanto qualcosa di interessante c'era in alcuni dei racconti. Sono quattro storie lunghe che riguardano i quattro antagonisti che vediamo rappresentati in copertina e una quinta storia breve dedicata ad un personaggio che si fa parte del canone di Star Wars, che è Ajani Ventris, ma che non ha mai fatto realmente parte del canone di film, visto che compare solo nella serie animata The Clone Wars. Il suo capitolo è stato anche abbastanza interessante, per quanto per l'appunto breve, vi faccio vedere giusto alcune tavole dedicate, molto molto carina visivamente, che ci mostra un po' un percorso, la sorellanza, qualcosina dedicato al personaggio, nulla di che, ma era del tutto inaspettato. Più aspettato invece era la storia dedicata a Grievous, di cui vi faccio vedere queste tavole, con un tratto abbastanza sporco, quindi ci stava molto col personaggio di Grievous, ma comunque ben definito e piacevole, in una storia che lo vede andare in giro per qualche missione non meglio definita, non meglio specificata, e che quindi non mi ha colpito, e anzi non mi ha detto proprio un gran che. Decisamente più interessante invece era la storia di apertura dedicata a Darth Maul, con una sua vicissitudini sul pianeta di Coruscant, in cui a modo di riflettere sul suo destramento e sul suo rapporto con il Darth Sidious, ovvero sia il futuro cancelliere imperatore Palpatine, davvero molto interessante come riflessione sul personaggio, quindi piuttosto riuscita. Così come è stato interessante anche l'addestramento di Jango Fett, un capitolo che in realtà lo vede discutere, dialogare con il figlio ancora piccolo, quindi è proprio il rapporto padre-figlio Boba Fett-Jango Fett, con un Jango Fett che sta di fatto allenando un giovane Boba. E la storia che mi è piaciuta di più invece è quella riguardante il Conte Duku. Il Conte Duku in un momento suo storico nel quale non si è ancora... si è già alleato con Darth Sidious, quindi siamo già dopo l'episodio 1, la minaccia fantasma, ma non si è ancora rivelato in quanto Sith. Si è allontanato dall'ordine dei Jedi, ha scelto di vivere la sua vita piuttosto indipendente, si trova su Sallast in missione per Darth Sidious, però in veste di nobile, ricco, che sta facendo delle trattative di affari. È una storia che mi ha colpito particolarmente, perché già ci mostra come questo personaggio sia evoluto, sia molto vicino a Darth Sidious, ma al contempo ancora abbia dei dubbi delle titubanze. Un volume che mi ha colpito decisamente meno del volume degli protagonisti, degli eroi dell'età della Repubblica, e che, a ben vedere, si sorregge, si salva molto solo per la storia del Conte Duku, mentre per le altre, per quanto carine, non mi è sembrato nulla di davvero imprescindibile. Passiamo adesso invece al volume degli eroi della ribellione. Ovviamente le quattro storie sono dedicate a Luke, Leia, Han Solo e Lando Calrissian, oltre a due brevi sulle quali devo ammettere ho fatto un pochettino fatica. Anzi, vi dico fin da subito che la breve sui piloti spaziali è stata in assoluto una delle cose più orribili che io abbia letto su Star Wars. Con i due che vanno a fare una vacanza, sembra quasi una gag story, inserita però in un momento relativamente tragico, con scene, vicende che... non mi è piaciuta, praticamente per me quasi illeggibile. Andando in ordine di preferenza all'interno di questo volume, vi posso dire che forse la storia lunga che mi è piaciuta di meno è quella dedicata a Luke Skywalker. Questo perché si tratta in realtà né più né meno di una sua missione in giro per il mondo, non saprei neanche ben definire se è ambientata dopo episodio 5, prima di episodio 6, comunque poco importa. È una missione che lo vede in realtà confrontarsi e confrontarsi, scontrarsi e confrontarsi con il lato oscuro, ma rimane forse un po' troppo vago e aleatorio. Decisamente più convincente invece tutte le altre storie che lo trovate davvero davvero azzeccate e molto molto intriganti. A partire dalla prima dedicata alla principessa Leia, una prima storia che vede Leia subito dopo il momento tragico in cui il sole è stato congelato nella Carbonite, con lei che idealizza un piano insieme a Lando e tenta con Lando di dimostrare di poter essere abile a fare il doppio gioco, a truccarsi, mimetizzarsi e non essere riconosciuta, per poi sfruttare il piano che conosciamo, abbiamo visto nel ritorno degli Jedi. Molto interessante anche la storia su Han Solo, in un momento storico dove Han non ha ancora deciso di far realmente parte della ribellione, sta aiutando i ribelli a più riprese e si ritrova sempre più invischiato all'interno delle battaglie dei ribelli, quasi involontariamente. storia riuscita che ci mostra quindi un passaggio all'interno della vita di Han Solo, molto azzeccato, molto calzante, tanto più che non se ne è mai trattato all'interno dei film. Molto bello anche il capitolo su Lando Calrissian, per quanto visivamente non è che mi faccia impazzire, che ci mostra le difficoltà di gestire economicamente anche la base di Bespin e di che limiti si pone il personaggio quando si tratta anche di ricevere bei soldi, bei finanziamenti, per poter mandare avanti tutta quanta la baracca in un periodo di crisi per la glassia. Davvero, davvero azzeccata, ci mostra un personaggio sotto un punto di vista inedito, che non avevo visto perlomeno nei film, e che me l'ha fatto apprezzare ancora di più per il suo lato umano, e che mi mette un pochettino più in crisi su quello che fa poi effettivamente nell'Impero Colpisci Ancora, proprio perché lì non sembra lo stesso personaggio, quindi non riesco a capire quando si è ambientata questa storia, forse dopo gli eventi dell'Impero Colpisci Ancora, e azzeccata è molto valida. Molto bella anche la storia di Yoda. Una storia breve, dove Yoda comincia a sentire la fine degli Jedi, comincia a pensare che sia l'ultima sua giornata, è una sua giornata tipo ad Egoban, prima che incontri Luke Skywalker, e ha davvero diversi pensieri in qua e là. Mi è piaciuta, mi è piaciuta davvero tanto, un volume davvero convincente questo, più o meno per tutti i personaggi, ma anche per il personaggio che mi è piaciuto di meno, ovvero sia Luke, risulta comunque azzeccato e apprezzabile, un po' meno per la breve comica, che non mi ha assolutamente detto nulla. E passiamo all'ultimo volume che ho qui sotto mano, ovvero sia Età della Rebellione, nemici. Protagonisti, gli antagonisti che vediamo qui in copertina, ed è presente anche una storia breve su IG-11, il robot assassino, che è una storia che cerca di esaltarne il mito del personaggio graficamente accattivante, ma per il resto la storia è una breve abbastanza dimenticabile, che non riesce a colpire, secondo me, il segno. La storia che mi è piaciuta di meno tra le lunghe è sicuramente quella di Jabba. Sarà che ci vogliono mostrare dei giochi di potere, principalmente ambientati a Canto Bait, quindi il pianeta che abbiamo visto in Episodio 8, collegamento a Tatooine, però si tratta per lo più di un Jabba che cerca di dimostrare il suo potere anche economico, e di come il suo impero economico possa crescere a dismisura sempre di più. riuscita, ma non, secondo me, eccezionale. Non mi ha saputo convincere neanche troppo la storia sul Grand Moff Tarkin, personaggio per me molto intrigante, antagonista, indiscusso, di Episodio 4, Una Nuova Speranza, e qui lo vediamo in una veste abbastanza inedita, in realtà, che è un uomo d'azione, molto vendicativo, molto eroso, disposto a menare le mani sempre. Ci sono dei concetti quasi sovrannaturali che non si attingono troppo al personaggio. Peccato, era un personaggio dal cui mi aspettavo molto, da cui mi aspettavo una storia interessante, e invece non mi è sembrato quasi andare fuori personaggio. Un pochettino più interessante è la storia su Darth Vader, che qui, dopo una sua presa di posizione, viene messo direttamente al servigio di un generale imperiale, dall'imperatore stesso, è costretto ad obbedirgli a tutti i costi, perché l'imperatore vuole dare un'ultima lezione di umiltà, apparentemente, a Lord Vader. Ok, sotto questa ottica qui poteva funzionare, peccato che alla fine l'insegnamento che vuole dare è tutto un altro, e non ho ben capito che cosa volesse davvero simboleggiare questa storia per Darth Vader, per l'appunto. La storia che mi è piaciuta di più, però, all'interno di questo volume, è quella dedicata a Boba Fett. Una storia che, per certi versi, è una storia mettata nel deserto, con lui che fa il cacciatore di tagli, che deve cacciare qualcosina, c'è qualcuno che vuole fregarlo, e quant'altro. Una vicenda che, secondo me, era ispirata, o ha ispirato, The Mandalorian, per tanti motivi che, per chi ha visto la serie, è inutile spiegare, ma questa storia è veramente un episodio di The Mandalorian con Boba Fett come protagonista. Riuscita, interessante, ma che, da sola, secondo me, non vale l'acquisto del biglietto. Di questi tre volumi, l'unico che mi sento di straconsigliare, o almeno di consigliare, è l'età della ribellione eroi, azzeccata su tutti quanti i protagonisti, meno per una breve, quindi tutto sommato accettabile. Mentre invece, per quanto riguarda i volumi sugli antagonisti, si è un pochettino perso il bersaglio, secondo me, per buona parte degli episodi. Qualcosa di interessante c'è, il Conte Duku e Boba Fett sono capitoli interessanti, così come può risultare interessante la storia di Darth Maul e di Django Fett, per quanto nulla di eccezionale, sono comunque storie valide. Il resto del volume, purtroppo, dei nemici della ribellione, per i quali avevo un minimo di aspettative, visto il calibro dei personaggi che vediamo in copertina, finiscono per non essere davvero nulla di che, purtroppo. A questo punto pensavo di fare un video ultimo sull'età della Resistenza, una volta che saranno usciti i due volumi. Non ha senso fare quattro video a sto punto. Mi dispiace non aver fatto, ecco, un video unico con l'età della Repubblica, con gli eroi nemici, ma mi aspettavo, ecco, di fare una serialità diversa per questa lotto di volumi. Non è stato così perché la distribuzione in fumetteria è stata un pochettino altalenante. Spero si sia risolto tutto e che quindi, ecco, possa tornare tutto come deve essere realmente. Spero di avervi dato delle buone opinioni su questi volumi, o perlomeno ho dato le mie opinioni. Spero che vi possano tornare utili. Nel caso siete d'accordo o non siete d'accordo, scrivetelo qui sotto nello spazio commenti. quindi discutiamone e parliamone molto tranquillamente. Qui da Francesco, il Funko Pop è alle mie spalle, dalla soffita di camera mia è davvero tutto e noi ci vediamo ad una prossima video-opinione del canale. Ciao!